ciao ragazzi rispondo ancora ad una recensione negativa che abbiamo ricevuto per fortuna ne stiamo ricevendo pochissime soprattutto nell'ultimo periodo siamo passati su google da 4.2 4.3 una grande conquista perché su un bacino di 4.000 recensioni salire di un solo punto è importante veniamo però alla recensione ragazzi allora da noi in cucina può capitare venerdì sabato domenica in generale quando c'è tanta gente che al pass ovvero il punto dove lo chef chiama le comande ce ne siano tante insieme ok un numero alto tipo 30 40 tavoli ok tante di conseguenza non facciamo un piatto alla volta facciamo tanti piatti alla volta quello che penso che l'hamburger sia uscito tra i 4 e i 6 minuti quindi magari che ne so arriva la birra arriva subito l'hamburger però quella si chiama efficienza e organizzare bene il servizio non che l'hamburger è precotto e non so cosa pensa la signora sul fatto che non le sia piaciuto invece mi dispiace nel senso strano noi facciamo 2200 hamburger circa a settimana nessuno mai detto nulla sull'hamburger anche perché produciamo tutto noi la carne fresca i gusti degli hamburger sono diversi da quelli che si trovano in zona i prodotti sono comunque di qualità le consegne da noi sono praticamente giornaliere da lunedì a sabato tutti i giorni consegnano quindi il prodotto è anche fresco non lo so mi sembra un po come sempre esagerato anche perché posso capire se uno mi dice sono 50 minuti che sto aspettando un hamburger allora abbiamo sbagliato qualcosa però se in 6 minuti 5 arriva l'hamburger e ceni secondo me è meglio almeno quello che penso io quindi alla fine non la fai mai mai giusta però andiamo avanti lo stesso ragazzi quindi i nostri hamburger crediamo molto nei nostri prodotti venite a provarlo perché è davvero buono è davvero buono Grazie a tutti.